Il mio rapporto con internet è diciamo costante, vado praticamente tutti i giorni e ci sto parecchio al giorno, quindi mi piace andare, navigare, fare un sacco di cose. Ne posso fare a meno se ne devo fare a meno, nel senso se non trovo connessione o se ho finito i dati sul cellulare ne faccio a meno, se no ho iniziato a utilizzare i social più o meno a 14-15 anni, magari con Facebook, poi sono passato a Twitter, poi a Instagram, adesso ce li ho più o meno tutti. Sui social secondo me è molto importante l'incoraggiamento che i fan ti danno e ti mostrano, magari quando pubblichi una foto ti fanno i complimenti, ti fanno in bocca al lupo, ti fa capire di essere seguito ed è bello. Sto fidanzato, però su internet ci sono un sacco di ragazze che sono mie fan e magari tutti io, non è tanto. La mia ragazza è gelosa, però diciamo che normalmente mi lascia la massima libertà su internet. Un saluto a tutti i fan di Linkem da Gregorio Qualtrinieri.